Le prime vittime del governo Monti, 15.000 cavalli al macello, migliaia di famiglie senza lavoro. Lo Stato, dopo aver gestito male un settore inattivo tramite l'amministrazione autonoma dei monopoli, ha deciso di non sostenere più l'Ipica. Dura la condanna del presidente di Asso Tutela, Michelle Emi Maritato, sulle nuove disposizioni della manovra nei confronti del gioco pubblico. Non si chiede un contributo per un settore in crisi, come impropriamente si vuole far credere e sostiene il numero uno di Asso Tutela, ma di un oggettivo risargimento da anni dalla politica senza senno, sin cui applicata. Alla fine del 2011 si avrà un fatturato di circa 80 miliardi, di cui 11 all'erario. Con l'attività Ipica trovano a impiego sportivo oltre 15.000 cavalli, che non avendo più sostentamento verranno macellati. Migliaia delle famiglie che hanno trovato lavoro in questi settori lo perderanno, migliaia di lavoratori nel settore indotto, impiegati pubblici del settore, allevatori, aziende agricole, industrie, manifatturiere settoriali, coltivatori diretti, perderanno il proprio reddito o quantomeno lo dimezzeranno. Possibile, si chiede Asso Tutela, che lo Stato non senta la necessità di disporre delle imposte erariali derivate da questo settore, inferiori nettamente a quelle dei gratta e vinci. Saremo perciò al fianco dei lavoratori dell'Ipica per combattere una delle tante battaglie di questo caldissimo inverno.